Sette bengalesi sono stati identificati e denunciati come i componenti del branco che domenica scorsa ha aggredito il gestore di una gastronomia del centro di Licata, insieme alla moglie che si trovava a sua volta all'interno dell'esercizio commerciale. E sulla vicenda sembrano emergere i primi particolari connessi al movente, probabilmente stando a quanto accertato finora dai poliziotti del commissariato di Licata, tutto ruota intorno al mancato pagamento di uno dei bengalesi che per qualche giorno aveva lavorato come aiutante all'interno dell'esercizio commerciale. Da questo dettaglio, sempre secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe scaturita la spedizione punitiva nel corso della quale aveva avuto la peggio il gestore del locale, un uomo di 35 anni che era stato poi accompagnato all'ospedale di Licata. Le sue condizioni non erano fortunatamente state giudicate preoccupanti. Anche la moglie del commerciante, come detto, era stata aggredita ma fortunatamente non ha avuto bisogno delle cure in ospedale.